Le nostre audaci donne impagliano leopardi quando non li scuoiano per portare nel manicotto e sul cappello trofei di caccia grossa. Che gelida manina se la lasci riscaldare. Eh, se vivesse oggi costerebbe caro a Rodolfo quel riscaldamento a base di manicotti di volpe. Ma certo, lo sappiamo anche noi che il mondo moderno è una giungla. Le donne però prendono le risorse zoologiche della giungla o quelle del sottobosco e se le cuciono sul vestito, come vedete in questa collezione di bacchilocchi. La civetta si sente terribilmente fuori moda col suo povero ciuffo di penne. Lo struzzo oggi si porta sulla gonna, un tempo non si portava in capo. Volpi argentate sul mantello nero che avvolge un vestito di velluto pesante insieme e turbinoso. Quante volpi quest'anno! Sì, ma portate come ornamento e non già in mantelli interi. E sono così riguardose le donne nel farci scucire. Che delicatesse! Speriamo che la fessura le permetterà di sentirci da questo orecchio. Velluto, raso, visone e lacrime da coccodrillo quando arriverà la nota della sarta. Il vecchio serpente scopre le sue tentazioni. I boa non usano più ed è giusto, coprivano queste spalle e questi nei. Taci, serpente, non sappiamo che farcene del pomo della saggezza.